Gente incolta, gente incompetente di arte. Una nuovissima, brillante e comica edizione di un classico immortale della commedia italiana inaugurato venerdì sera alla stagione teatrale al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento. Stiamo parlando dell'Aria del Continente di Nino Martoglio che ha avuto come protagonisti la showgirl Patrizia Pellegrino ed il comico siciliano Enrico Guarneri. Vedi sera l'ultimo appuntamento che ha fatto registrare il pienone con un teatro cremito di gente. Sotto la regia di Antonello Capodici si narra la vita di un ricco possidente siciliano, Coladuscio, interpretato da Enrico Guarneri che va a Roma per operarsi da appendicite abbandonando la propria famiglia, il cognato Lucina, i due nipoti e soprattutto la terribile sorella Marastella. Oh Cola, se mi costringete allora mi butto io. Dalla finestra? No, tra le tue braccia. Ho sentito bene tu e tu? Sì? Mi fa. Dimmi Cola. Sì. Quanto sarebbero grandi questi tuoi affari? Eh, affari, affari, affari. Nella capitale però il nostro eroe fa l'incontro della vita, la fascinosa ammaliante subrettina Mila Milord, interpretata da Patrizia Pellegrino, sedicente figlia di un ufficiale e di una baronessa. Sarà lei ad introdurre il povero Cola alle stravaganze di una presunta emancipazione sociale e morale. Uno spettacolo nel segno della qualità teatrale, del divertimento, uno spaccato di paese che ripete all'infinito i tuoi stereotipi preferiti, il provincialismo e il modernismo ad ogni costo. Un po' che ti ho conosciuto non ti basta lasciando avviare. Che come stai dicendo? Che farò il più grande sacrificio come donna e come artista. Se tu non puoi restare qui a Roma con me, allora io verrò in scena con te.